C'è un po' di amarezza, un po' di delusione? Di amarezza anche perché io cercando non trovo tiri del capo basso. Trovo una partita giocata in attacco dalla mia squadra e due gol che non riesco a spiegarmi. Insomma, gli episodi probabilmente secondo lei quindi hanno deciso questa gara? Io sfido a dire qualcuno che mi vuole dire il contrario. Voglio dire chi è che può dirmi il contrario. Ora cinque punti, insomma, sono un buon margine per il campo basso. Cosa dobbiamo aspettarci nel proseguo del campionato? Una rincorsa e basta, vedremo. Sicuramente una partita che non meritavamo di perdere. E comunque il futuro dell'Isena è presente, è ancora tutto da scrivere, quindi lei non si abbante. Certo, no, vediamo, insomma, non è che per una partita. Sicuramente sono partite che sono il bello e il brutto del calcio perché, insomma, va bene così.